ecco io apro i vostri sepolcri e con queste parole del signore che si apre la prima lettura tratta dal libro del profeta ezechiele parole che sono in piena sintonia con il brano del vangelo dove è narrata raccontata la resurrezione di lazzaro gesù riporta in vita il suo amico ma se è vero come lui stesso come gesù stesso ci ha rivelato che anche noi siamo suoi amici vuol dire che tutti possiamo essere riportati in vita e questo non solo quando affronteremo la morte risorgendo di conseguenza ma ancora prima perché anche da vivi si può essere morti dentro e questo accade quando quando accumuliamo peccati preoccupazioni e tensioni dentro di noi che soffocano ogni vitalità si può essere vivi ma morti dentro e i peccati sicuramente contribuiscono alla nostra a farci a creare la morte dentro di noi torniamo all'immagine del nostro giardino interiore che abbiamo un po' esplorato in queste domeniche di quaresima in questo giardino vi sono luoghi verdeggianti e rigogliosi piacevoli alla vista così come abbiamo visto che ci sono zone aride che ci ricordano che non siamo perfetti ma ci sono anche delle discariche abusive dei buchi dove gettiamo l'imbondizia mi colpisce sempre un passaggio del racconto della risurrezione di lazaro precisamente nel punto dove l'evangelista giovanni si prende la briga di sottolinearci che dal sepolcro sarebbe uscito cattivo odore poiché il cadavere era lì già da quattro giorni ecco questo cattivo odore nel nostro giardino interiore ogni tanto rischiamo di imbatterci in qualche cattivo odore che proviene da quelle cavità dove gettiamo i nostri peccati le ferite le fatiche esistenziali nell'illusione che spariscono ma in realtà le stiamo solo semplicemente nascondendo ai nostri occhi a noi stessi nessuno terrebbe l'immondizia in casa o nasconderebbe la polvere sotto il tappeto e tantomeno abbandonerebbe rifiuti o non dovrebbe abbandonarli in luoghi che non sono idonei rischiando così di deturpare l'ambiente eppure noi ci comportiamo così con i nostri peccati vi sono degli spazi cavi del nostro giardino interiore dove andiamo a buttare la spazzatura la nostra spazzatura esistenziale ciò che non ci piace di noi le ferite esistenziali le sconfitte le amarezze le tensioni le questioni non risolte le mancanze senza renderci conto che quella roba lì non è dimenticata per sempre anzi è lì accumulata e prima o poi marcirà e lo lezzo si farà sentire siete mai passati nei pressi di una discarica ecco lo stesso odore lo provocano i nostri peccati quando li lasciamo nascosti qua e là nella nostra interiorità occorre allora puntualizzare il significato di peccato non è qualcosa che facciamo contro dio ma contro noi stessi e sbagliare strada e fallire il bersaglio e perdere di vista la felicità che dio desidera per tutti noi il peccato è quando manchiamo l'obiettivo della nostra felicità ci allontaniamo dalla nostra felicità uno degli aspetti che minaccia maggiormente la nostra felicità e che di conseguenza è uno dei peccati maggiori è proprio il tenerci dentro le cose nascondendo in qualche pertugio le schifezze della nostra esistenza senza renderci conto che quella roba invece disparire fermenta e quando meno ce l'aspettiamo si fa sentire ognuno di noi produce giornalmente dei rifiuti no e sappiamo quanto sia attuale il problema del loro smaltimento ma non dimentichiamo che vi è anche la spazzatura esistenziale che noi ogni giorno produciamo della spazzatura esistenziale che si genera da ciò che viviamo quotidianamente è il rischio che corriamo è di accumularla di gettarla in qualche buco della nostra interiorità senza renderci conto che quella roba prima o poi puzzerà e inquinerà questo tempo di quaresima allora può essere un buon momento un'ottima occasione per fare un giro di ricognizione nel nostro giardino interiore in compagnia di gesù e individuare quei buchi quei luoghi quei sepolcri dove abbiamo nascosto le nostre schifezze per tirarle fuori con lui e affidarle al suo perdono noi nascondiamo i peccati a noi stessi le nostre ferite i pesi perché così facendo pensiamo di vivere meglio di salvare almeno le apparenze ma ci sbagliamo questo lavoro di nascondere la nostra la nostra spazzatura esistenziale ci viene un po distinto di farlo ci dà la percezione di sopravvivere agli errori agli affanni ai problemi ma invece occorre andare a stanare la spazzatura che rischia di annidarsi un po ovunque nella nostra interiorità e questo lo si fa proprio fermandoci e ricorrendo alla confessione al sacramento della riconciliazione per guardare in quei buchi in quei sepolcri dove si accumulata la spazzatura dei peccati e fare così un po di pulizia è normale che si creino ogni tanto dei cumuli di immondizia nella nostra interiorità perché si vive perché apparteniamo a questa umanità e perché non siamo perfetti però bisogna andare ogni tanto a ritirare questa spazzatura non lasciarla nascosta dio non si schifa delle nostre spazzature anzi anzi desidera che gli affidiamo tutto ciò che martì che rischia di marcire nei nostri cuori per riportare in noi il profumo nel nostro giardino interiore e farci così ritornare alla vera vita e la vera felicità buona domenica a tutti